Ciao, sono la mucca Lola. Sapete come nasce la mozzarella? No? Allora seguitemi! Il coagulo è pronto. La parte solida diventerà mozzarella, il siero invece ricotta. Mozziamo la massa filante, proprio da qui viene il nome mozzarella. Il raffreddamento rapido preserva la forma sferica. La parte solida diventerà mozzarella, il siero invece ricotta.